In titolazione quest'oggi dell'unità di raccolta fissa Presidente, lei ha fortemente voluto questa iniziativa con tantissime motivazioni che ci vuole ripetere? Le motivazioni sono state tante, però la cosa più giusta da fare era riconoscere questo tributo a una persona che ha scritto una delle storie più importanti della medicina trasfusionale del nostro gomio sunese e quindi il dottore Luigi Menna. Io non ho avuto il piacere di conoscerlo personalmente perché mi sono avvicinato a questa associazione nel 99 e il dottore Menna era da poco andato in pensione però non c'è mancata circostanza, occasione utile per ricordare l'impegno profuso da parte del dottore Menna e quindi se oggi noi stiamo per festeggiare nel prossimo mese di maggio i 33 anni di vita della nostra associazione e quindi un'associazione che si annovera tra le più longeve, se non è la più longeva, di associazione di volontariato sul nostro territorio lo dobbiamo soprattutto al dottore Menna perché con chi mi ha preceduto ha creduto nel volontariato, ha creduto nella donazione di sangue e quindi oggi, tra l'altro poi in circostanze anche in coincidenza con l'anniversario della sua data di nascita, era giusto intitolare questo nuovo centro di raccolta sangue Una cerimonia che la direzione sanitaria ha appoggiato in pieno da subito Perché ci crediamo, sono felicissimo, contento, emozionato, non tanto per me ma per tutti i familiari perché queste sono cose molto belle, questo significa fare bene le cose giuste nella vita quando si fanno bene le cose giuste si ha un risultato finale che è questo, quindi grazie a tutti Le associazioni di volontariato sono sempre determinanti per il sistema sanitario come ricambiano le istituzioni questo impegno? Il loro stimolo è essenziale, le istituzioni nonostante le mille difficoltà ricambiano mettendo in atto le esigenze loro quando hanno un fondamento valido di interesse della collettività L'esempio di Ustuni è un esempio di quelli che calza a pennello L'associazione dell'Avis di Ustuni è stato un punto di riferimento e di esempio per tutta la provincia Rivendicava questa postazione nonostante fosse stato interrotto il servizio della convenzione così che è stata ripresa ma approfittando di queste lagnanze e di quella provvisionalità che c'era è stato inserito in un progetto che rispecchia le norme e i crispi di legge perché comunque è un servizio molto molto delicato anche se il gesto è nobile bisognava dargli una struttura a norma nel rispetto delle procedure e della legge l'abbiamo dato come priorità, io sono stato a fianco dell'associazione che ha elaborato un progetto sull'intera provincia, quindi tutta l'ASA di competenza e siamo stati di stimolo affinché questo fosse realizzato reperendo i fondi e dando una priorità. Uno dei primi punti importanti di questo nuovo sistema di raccolta del sangue è Ustuni e sono felicissimo che l'obiettivo è stato centrato ma mi auguro e sarò ancora più felice quando su tutto l'intero territorio della provincia in ogni struttura sanitaria venga data la possibilità di poter compiere ad ogni singolo cittadino questo gesto nobile della donazione del sangue Una giornata non assolutamente scelta a caso, oggi suo marito avrebbe compiuto 79 anni chi meglio di lei può farci un ricordo? Chi era Luigi Menna? Era generoso, è un ragazzo estremamente romantico, estremamente generoso, dedito esclusivamente alla famiglia al sapere, alla musica, amava moltissimo la musica e quindi lui era di una tenerezza però senza enfatizzare abbiamo anche litigato ma erano belli anche quei litigi soprattutto adesso che si ricordano erano senza grande importanza Un'emozione grandissima quindi quest'oggi questa intitolazione dell'unità di raccolta fissa ad Ustuni Sì, è stata una grande emozione ma non solo perché hanno riconosciuto dei meriti a Luigi ma soprattutto perché io mi sono trovata a palpare nel vero senso della parola una umanità fatta anche qui da coloro che hanno organizzato, fatta di riconoscimento, di donazione, di generosità Devo dire ho vissuto un momento splendido, mi sono trovata calata in una realtà che onestamente fa parte solo scusatemi se enfatizzo, ecco, di desideri, speranze e sogni, persone splendide per mezzo di loro I suoi auguri di buon compleanno? A mio marito? Sì, auguri perché mio marito in realtà è ancora con me ed è qui presente in casa, canto, in tutto, grazie 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 Grazie